Abbiamo bisogno di un'economia che non faccia più riferimento né a crescita né a decrescita, ma un'economia che faccia riferimento alla soddisfazione dei bisogni umani per il maggior numero di persone e tendenzialmente per tutta l'umanità. Oggi siamo un'economia invece che ha finalizzato tutte le attività alla crescita della produzione di merci e questa finalizzazione ha comportato un esaurimento di risorse rinnovabili, di risorse non rinnovabili, un aumento di rifiuti, delle emissioni. Per cui la cosa principale da fare in questa fase è ridurre il consumo di risorse, ridurre le emissioni inquinanti, ridurre le quantità di rifiuti, invertire questo meccanismo. Per questo diciamo che la decrescita è la strada. La meta è una società in cui le attività economiche e produttive siano finalizzate al benessere umano e non alla crescita continua della produzione di merci.